Studenti Benissimo Lì Come quando vengono entro? Perché la voce? Sì Sì La voce la voce ? Ho Sì Certo No La voce? Sì Non so No Certo Quanto Fu Grazie per la sintesi della terapia. Il suizio è anche altri elementi, vedete, il seleno, per esempio, che è contenuto nelle patate, perché il seleno, al suo modo, è diventato. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.